Ciao tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dell'evento finale parto 2 di Halloween dove se più rideremo di parte faremo la classifica di loro, di questa Bison 5, le buona ora Ok, vai, vai, tiriamoli, aspetta, aspetta, mi devo vestire Ho messo, non ho il massimo, non ho il massimo Eh, sembri proprio un light massimo No, non ho il massimo, ragazzi vero che sono il massimo? Ma si vede, mi vede qui Ma adesso me lo metterò quando l'evento non ci faccio Adesso ce li tireranno in fretta 3 minuti Subito Come devo fa' Ecco, ecco Ma io ho la mia arma segreta Io ho la mia arma segreta Guardate il lato Adesso ti ricordi quando dicevi mamma mamma ehi ehi perché ti piace tanto questo gioco guarda quanti c'hai qui guardate la mia arma segreta adesso cosa fa spara puparti spara puparti è imbattibile è imbattibile guarda poi è venuta con un tocco di pupata a spostare le candele adesso vediamo in pupata bene allora noi li mettiamo qui e diciamo dove li mettiamo questo dove lo mettiamo questo è qui dove lo mettiamo questo sono dieci il primo posto allora questo qui mi sembra un po' noioso dove lo mettiamo vedete ma è colino perché non è quinto quinto dai quinto stanno a passo anche quinto 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 Lui? Poi dite se qual è il vostro preferito Poi ce l'ho messo al set Ah, un set Un'altra 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 E loro due? Un 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 No Ma questo non è un pupazzo, dai È serio Guarda che è tutto pupazzo, pupazzo Io il primo posto se chi mette No Lei dove la pupazzo Dove la mettiamo qua? Ma questo se lo mettiamo in osca Sì Questa cosa è con noi Quanti? Sì, questo è pronto Sì 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 Ecco qui Secondo Questo dove lo mettiamo? Non lo posso Sì 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 E questo dove lo mettiamo? Sì Sì La mostra finale è questo quinto Con lui Questi 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 dove li mettiamo? Con lui E tu con lui Allora lui A metta questo Questi Iniziati Mi fanno i volti a me Sì Sì Dai Teniamo la classifica Io ho Il primo posto Già Decretato E Sarebbe Lui dove lo mettiamo? 14 Lui Secondo Insieme a lui Insieme a noi Lui Sì Lui 18 Lui 17 Lui Allora Il più brutto No Il più bello È No Ecco Questo è il primo posto Il primo posto Il più brutto È Giudicato lui Adesso Vi facciamo vedere La vera classifica Ok Guardate La vera classifica Lui Sì Ciao Ciao Grazie.